Grazie Presidente, io le chiedo anche a lei di ormai siamo arrivati a degli appelli costanti ma purtroppo inascoltati dal Governo per i quali ogni settimana noi ci troviamo a votare una richiesta di fiducia da parte di questo esecutivo e devo dire che anche più che autorevolezza dell'esecutivo sul quale abbiamo accusato più volte in quanto deve mettere la fiducia per fare votare i propri provvedimenti, oggi parlerei di autorevolezza di una maggioranza che ormai non è più in grado di prendere decisioni politiche, preferisce fare grandi dichiarazioni quando inizia magari una legge come quella di stabilità tramite giornali, piazze e palchi televisivi dopo quando arriva qua il Governo mette la fiducia e tutta la maggioranza supinamente anche chi si erigeva, grande sostenitore, difensore degli esodati, dell'agricoltura, dei comuni tutti qui a dire va benissimo, votiamo questa legge e non modifichiamola nemmeno in aula penso che sia uno svilimento di questo Parlamento ma non soltanto uno svilimento Presidente ma dopo questo immenso numero di fiducia che vengono messe penso che ci sia un serio problema istituzionale rispetto ai poteri dell'esecutivo che è organo esecutivo e rispetto ai poteri del Parlamento che invece è e rimane se non viene cambiata la Costituzione ancora organo legislativo, grazie Grazie a lei Grazie